C'è un dato che colpisce oggi, viene dall'Istat, l'Italia è un paese sempre più vecchio e con una popolazione in calo. Nel 2065, per chi ci arriverà, saremo 6 milioni e mezzo in meno. Sentiamo Claudio Pandolfi. Sarà ancora più vecchia e spopolata l'Italia del futuro. Un paese con sempre meno giovani e bambini e sempre più anziani. E' questo il quadro disegnato dall'Istat per i prossimi 50 anni. Nella previsione dell'Istituto di Statistica, gli italiani residenti nell'anno 2065 saranno circa 54 milioni, 6 in meno rispetto ad oggi. E saranno distribuiti soprattutto al centro-nord, le cui regioni ospiteranno il 71% della popolazione. Mentre il sud è destinato sempre di più a spopolarsi, passando dal 34 al 29% di residenti. Bilancio in parte compensato dagli arrivi dall'estero. Nei prossimi 50 anni sono previsti oltre 14 milioni di immigrati, mentre in 6 milioni e mezzo lasceranno l'Italia per trasferirsi in altri paesi. Anche se la fecondità femminile è data in aumento dall'Istat e quindi ci saranno più bambini, il saldo naturale sarà sempre più negativo, fino ad arrivare al 2065, quando le nascite saranno circa la metà delle morti. Meno italiani dunque, ma più longevi. La speranza di vita media aumenterà di ben 5 anni rispetto ad oggi, superando gli 86 per gli uomini e addirittura i 90 per le donne. Già nel 2050 gli ultra 65 anni saranno un terzo della popolazione.